un altro contratto con me un altro ragazzi mi serve una mano vieni and dove esci dietro 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 non ti ergo non ti ergo non ti ergo c'hai dei wallax ma donna mia l'ho squagliato a questo ecco la Andy l'ha detto ragazzi l'ha detto l'ha detto l'ha detto ragazzi è interato ho morto c'è un altro uno qua sopra eh no tipo qua ma te li prendi me la sacca pallogna sopra e sopra eh dietro di me dietro di me dietro di me l'ha pingato l'ha pingato lo vediamo aspetta le black e poi vado dalla reb buono 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 bravo buono bella goal bella goal Andy davanti a noi a sinistra arriva la macchina lo sparò lo sparò lo sparò uno più sotto abbiamo la B possiamo chiamarla B fatto occhio fatto uno fatto un altro fatto un altro fatto un altro grazie mille andò sempre là sempre là uno dietro uno dietro aiuto aiuto Andy Jack reb no 3-4 autoress non muori fuori safe comunque ma perché ti ridà la vita giusto la vita al 100% fortissima sta cosa secondo me io ce ne avevo due infatti stavo per maschera ora ragazzi stavo fuori safe da un chilometro di distanza davvero hai fatto un po' quanto sei rimasto? tutto quasi sono uscito ho perso un quarto di vita no rimani in volo reb che ti faccio la missione infatti ho già i soldi per un rest ragazzi se volendo mi bussano in due mi bussano in tre niente niente non viene qua c'è tra l'ansia cazzo c'è uno su qua aspetta un po' aspetta sono morto pesa cazzo reb buona call buona call buona call buona call andiamo 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 da loro no ci rifacciamo come non veniamo uno sopra c'è uno di vita c'è uno di vita let's go let's go buono 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 ma certo che veniamo c'è Q certo c'è un sacco di soldi ragazzi c'è un'altra cassa sopra così così dobbiamo prendere i lodi però secondo me dobbiamo prendere i lodi guarda dove chiude guarda che figata ragazzi se ci buttiamo andiamo sopra sopra ci buttiamo arriviamo tipo a terminal qua giù va bene io ho trovato 20.000 c'è un sacco di soldi ma sto ando ando c'era il call andiamo su una stradone su uno stradone vero me ci ha butto mi ci sto a buttare me ci sto a buttare al mare dove vince che sto a seconda partita ti vedo Jack vieni qua vieni qua è quella veloce va piotta 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 bombardo 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 ho bombardato male ho bombardato male guarda quanta gente c'è oh porco due intanto fatto bravo ericottero sopra qua c'è una cassa segreta qua c'è una cassa segreta che nessuno sa ma lo so io guarda dove dove Jack oh bellissima bellissima Jack dove arrivo sono piccoli sono piccoli attento fighissimo sto pezzo andiamo 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 sicuro spot c'è un bugo c'è un frigo qua mi ha distrutto mi ha distrutto vai vai buscio buscio su 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 un nato su un nato doppio fatto 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 ci cecchino tranquillo tranquillo posso prendere prendere anche io il cecchino no no non mi si muove non mi si muove ok allora allora aspettate io non ce l'ho non ce l'ho un'altra arma dobbiamo andare via da qua di nuovo Jack Jack passiamo tutto a sinistra si famo che è sto coso qua che è tipo un pesce una aliana una aliana io ho causato Jack ricordate che c'è sempre un team qua al finger eh dimmi dimmi c'è uno sulla torre di babele è quello delle cose infinite bloccato un'altra cosa un altro bug questi devono di qua da me arrivo c'era gente da me qua insieme ci potrebbe essere gente io guarderei subito sopra tanto penso che qua stai sopra sopra ci stavano i cecchini ci stavano i cecchini si saranno buttati quelli aspetta ve spizzo un attimo la situation salite con me guidiamo davanti a me sul tetto davanti a me sul tetto davanti a me sul tetto stacco stacco Andy stacco Andy stacco Andy ti rispizzo andolo ti rispizzo qui dall'altra parte del tetto era uno a c qua pure oh diventato forte sto coso oh madonna quanti ce n'avete raga ce ne sono 4 sotto di noi arriva a me 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 brava il dolivo incasse guarda di un bombardamento sono morto altri due sotto fatto un altro ok manco si vedevano arrivo Jack abbiamo il rest sono sotto dove stanno non scendo Jack uno sotto a destra soccato ma questo è gioco di merda uno contro uno contro due ok stanno in mare penso ecco quelli che si sono restati e sono andati verso gli troppi quelli in mare volendo c'è ancora il tetto si eh posso usare da qua ecco la scala ecco la scala dentro grazie ragazzi dovrebbero stare stato raccogli da dietro sì 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 visto 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 magari gira da te magari gira da te devo stare zitto hai visto? si è piccato ha piccato là sì 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 non so ma la maschera ora let's go sbagliati sbagliati oh ma l'rp eh regà l'rph posso dire è fortissimo l'rpk come cacchio si chiamano sì 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 eh lo so lo sai quella che è figo regà a me mi ha fatto fa un botto di kill il cosetto tipo il binocolo regà oh è forte me l'hanno risolto quel bug che si vedeva in giro quello che va in giro nudo? esatto sì va vestito adesso? di che cosa? grazie a tutti